sa benedica a tutti bentornati sul mio canale pre partita palermo san podoria non è per niente deprimente di fare palermo lo dimostra antonio 25 anni non sto scherzando però sì diciamo che la situazione non è proprio di quelle rose però va bene e allora questo match in realtà è un match tra due deluse forse tra le più deludenti al momento del campionato di serie b mi aspettavo anche da parte della san podoria visto il mercato che hanno fatto di vederli un po più in alto coda tutino in realtà anche loro stanno deludendo le aspettative hanno già cambiato tipo tre allenatori quindi insomma loro si trovano in una situazione se non uguale comunque simile alla nostra e però comunque qual è la differenza secondo me sostanziale delle due squadre almeno per quello che ho visto poi per carità se il campo parla il risultato dice altro buon per noi anzi è che la san podoria che viene da dei risultati negativi la tifoseria incazzata nera tutto quello che volete ma un palermitano pietro accardi tra l'altro ex palermo ha fatto fare il ritiro alla san podoria quindi nessun giorno di riposo niente di niente mentre il palermo ha fatto il giorno di riposo anzi più di uno giusto per specificare non è stato un giorno sono stati più giorni allora alla luce di quello che sta accadendo in questo campionato sicuramente la gara dei prossimi giorni sarà sicuramente non lo so se deprimente non lo so se sarà divertente sarà divertente per gli avversari sarà divertente per noi sicuramente l'unica cosa che ho sentito in questi giorni è che dionisi vuole sperimentare un nuovo modulo e questo diciamo da una parte è un bene si sta parlando di un 4 2 3 1 quindi con il trequartista le due ali e la punta centrale c'è un problema però vuole integrare brunori in questo modulo giocando la trequartista allora fermo restando che io ancora non ho capito la situazione brunori perché prima dicono che lo vogliono cedere poi lo vuoi provare dico io spero sempre che lo teniamo però se lo dobbiamo prendere così per sperimentare a mio modo di vedere non è proprio il massimo della comodità tattica vediamo vediamo che cosa succederà perché poi la partita che si giocherà tra pochissimi giorni contro la samp in casa ci dimostrerà ancora una volta se questo palermo può comunque raccogliere qualche punto che può servire a salire un attimo la classifica perché parliamoci chiaro allo stato attuale il palermo non ha dove andare almeno dal punto di vista delle prestazioni può essere anche bravo il palermo in alcune situazioni nel cercare sempre il compagno cercare comunque il tiro in porta però alla fine se non concretizzi mai i risultati non sono dalla tua parte hai torto punto e basta samp stessa identica cosa un rendimento simile a quello del palermo quindi è inutile parlare della samp doria a livello di risultati perché sono più o meno simili a quelli della nostra squadra però di sicuro sarà una gara ad alta intensità almeno per come me l'aspetto io poi il campo ci dirà la verità ci saranno sicuramente anche alcuni tifosi della samp nonostante le delusioni loro sono comunque lì a sostenerli dico io sono molto contento del fatto che ci saranno spero che ci saranno dei tifosi sia da una parte che dall'altra soprattutto da noi in casa da noi non lo so se sarà sempre il solito pienone perché comunque le delusioni si stanno iniziando a intravedere sempre di più e questo porta al tifoso a essere sempre più sconcertato dei risultati sconcertato della progettualità rosa nero che ripeto non è progettualità momentaneamente ma solo fare un campionato dove cerchi di accucchiare più punti possibili per non so andare playoff stare in centro classifica magari salvarti in zona play out non lo so io ripeto non so qual è il reale obiettivo però mi auguro sempre che la mia squadra possa fare risultato a maggior ragione in casa dove abbiamo fatto veramente male la samp altrettanto vorrebbe fare contro di noi e noi dobbiamo cercare che sia col 433 o col 4231 col 442 quello che sia di cercare di imporre il proprio gioco sempre tra virgolette gioco contro una squadra che è altrettanto in difficoltà quanto noi quindi dobbiamo cercare di un attimo fermare questa squadra cercare di ricominciare a fare punti perché le squadre che sono lì davanti già le prime 3 4 sono quasi scappate noi intanto pensiamo solamente a fare punti tanti punti e poi nel mercato di gennaio vedere se c'è qualche possibilità di recuperare quello che si è perso ma torno a ripetere se una squadra deve poi puntare a qualcosa di importante non va a buttare tutti questi punti contro anche squadre che in realtà non hanno detto nulla non stanno dicendo nulla al campionato e poi alla fine col palermo vincono pareggiano sta a noi riuscire ad alzare un attimo la testa e cercare nuovamente di pedalare cosa che io dico sempre perché dico pedalare è faticoso però se alla fine riesci a pedalare nel modo giusto allora le cose si riescono forse a raddrizzare e ti toglie anche delle soddisfazioni mi fermo qui ditemi la vostra sempre forza palermo che male non fa e noi ci becchiamo ad un prossimo video ciao